...di rappresentazione situazionista, noi stiamo facendo vedere quello che succede quando dei tecnici informatici hanno dei problemi, e cioè quasi sempre, se non sempre, o semprissimo, durante le presentazioni di PowerPoint. Io ho fatto anche il tecnico alle convention mediche, e questa cosa mi ha formato come tecnico, scusa, perché intanto sto tenendo in pausa, vedi, un altro che mi aspettava, mi ha formato sia come tecnico che come uomo, perché vedere alle 8 di mattina slide di malattie impensabili è una cosa che ti forma dentro. Allora, in realtà, adesso non so se qui abbiamo anche gli amici di Border Radio, io sono partito a tradimento, ma semplicemente perché ancora non posso partire con la presentazione, quindi stiamo facendo una cosa un po' così, un po'... In realtà il mio intervento poi si sposa molto bene con quello che sta succedendo, perché dalle 13 alle 15 c'era un piccolo panel con gli amici qui che gestiscono i musei informatici, e invece io avevo un intervento completamente diverso, che è una sorta di storia antropologica del web. Oh, è arrivato intanto la cosa. La mia storia antropologica del web cerca di far capire come il web, nato dagli sforzi ed elementi di un gruppo molto competente di persone, si sia trasformato in un cialtrone senza competenze che parla da un palco. Che sia questo palco quello di TED o altri palchi in giro, diciamo che c'è un motivo per cui se da così si è diventato così. In realtà poi loro sono molto importanti perché cosa vuol dire? Io non ho alcuna competenza per parlare di antropologia, sono un programmatore, sono un responsabile di sviluppo in un'azienda, mi occupo di software assicurativi, quindi roba abbastanza noiosa, però ho fatto studi umanistici, quindi ho cercato di sposare queste cose. Quando mi chiedono ma che competenze tu hai per parlare di antropologia, io dico io, e oggi vale questa cosa, ho letto varie volte tutta la pagina Wikipedia di Alberto Angela, quindi mi sento assolutamente nel pieno diritto, dato che siamo nell'era dell'incompetenza. E quindi cosa succede? Il mio è un intervento leggero, è un intervento che magari un tecnico si arrabbia a sentirlo perché non sono molto preciso, però secondo me dimostra una cosa che poi è la cosa importante della loro passione, cioè che l'informatica come mezzo culturale è diventato un nuovo paradigma all'interno del quale si muove l'essere umano. Da groviglio di cavi, da transistor, da valvole, è diventato in realtà il supporto di un paradigma umano, come una volta poteva essere il villaggio dei cacciatori e dei raccoglitori. Quando ci si rende conto che una tradizione tecnologica, culturale, quello che è di qualsiasi tipo, ha bisogno di diventare un'eredità, allora nascono i musei, perché l'obiettivo del museo è quello di trasformare una tradizione in un'eredità per le persone che vengono dopo. E c'è bisogno di questo, perché? Perché soprattutto nella tecnologia, chi nasce in mezzo a un'era tecnologica dà per scontata la tecnologia all'interno della quale nasce. E quindi se non hai puntini per collegare e per far vedere come si è arrivati qui, manca uno strumento poi per apprezzare le cose. Quindi allora io adesso se può partire questa cosa difficilissima che abbiamo, non c'è il programma per farlo partire. Ah perché è un powerpoint di quelli gratuiti, perché non ho i soldi per comprarmi il powerpoint normale, no? Dato che vengo pagato in visibilità su internet, quindi sapete c'è il cialtronismo, c'è non ci sono più i soldi, c'è la visibilità. Allora questa cosa qua semplicemente ve la dico così com'è, senza cosa. Allora come è nato quello che noi, poi ci sarà anche un momento nel quale altre persone sentiranno delle parole e saranno più attratte, perché come è nato quello che noi viviamo, internet e il web? Allora internet, innanzitutto devo dire una cosa, questo intervento era stato scritto in due parti, solo che la prima parte l'ho persa, quindi inizia con, come abbiamo detto nella prima parte, voi fate finta che internet come tutte le cose divertenti è nato negli anni 60, cioè come l'hard rock e come varie sostanze stupende. Diciamo che il progenitore di internet, lo sappiamo tutti, era, diciamo si dice fosse ARPANET, c'è la concezione sbagliata che fosse una cosa solo militare, mentre invece sono stati dei ricercatori universitari bravi a farsi dare dei soldi dai militari per fare una cosa, cioè per mettere in rete i loro computer universitari, i loro elaboratori. Ai tempi non è che, cioè perché sono andati a chiedere soldi alla difesa? Perché mancavano ancora le cose che rendevano l'informatica vendibile e neanche loro lo sapevano, infatti i tecnici facevano magari delle cose bellissime e poi cadevano in depressione perché non sapevano a cosa servivano quelle cose. E quindi anche lì mettere in rete tutti i computer, cosa? Oh, è partita. Questa qua è sempre la mia copertina, quella lì è una mia opera d'arte, si chiama Quarto Status. Come vedete autore Platinet perché l'ho copiato da Wikipedia tutto. Quindi che cosa succede? Che, grazie mille, un applauso per i tecnici che sono riusciti a trasformare un powerpoint fatto col powerpoint di carta pesta in un powerpoint vero, visibile. Quindi che cosa è successo? Fatemi vedere. Ok, noi non sappiamo esattamente come sia, secondo la concezione comune l'evoluzione dal fax a internet è fase 1 fax, fase 2, fase 3 internet. Quindi che cosa succede? Che ARPANET è un modo di collegare tutti i computer. Quando gli hanno chiesto ma cosa serve collegare i computer? È nata la prima risposta nerd della storia. Perché cosa serve mettere in rete tutti questi computer? Perché lo fate? E la risposta è perché sappiamo farlo. Quindi la cosa che è perché possiamo e perché vogliamo farlo. Quindi la cosa che spinge il nerd, l'informatico a fare qualcosa è, non importa quanto possa essere utile, lo faccio perché voglio farlo, mi diverte, so farlo, ci posso provare, ho delle sfide nel farlo, lo faccio e basta. Poi in realtà queste cose qua devono essere vendibili. Effettivamente poi ARPANET aveva un'applicazione pratica perché al di là dello scherzo dei giochi ci si scambiava i file, ci si informazioni tra università, una rete che diventa sempre più grande e che quindi a un certo punto coinvolge prima tutta quanta il Nord America e poi sbarca in Italia. Però prima di sbarcare in Italia, prima di diventare da ARPANET internet, cioè quindi una rete molto più grossa, cosa succede? Che venivano poste altre pietre miliari nella storia dell'informatica applicata all'umano. Alcune possono apparirci banali, ma col senno di poi non lo sono affatto. Un esempio è rappresentato da personaggi che non vengono ricordati perché vengono ricordati i grandi venditori della storia, non quelli che hanno fatto le cose. Quindi uno si ricorda Steve Jobs, ma non si ricorda Douglas Engelbart. Douglas Engelbart è l'inventore del mouse. Lui ha inventato il mouse e una cosetta che si chiama ipertesto, cioè quello che c'è alla fondamenta del web, cioè il modo di collegare le informazioni in modo tale che le clicchi e dove clicchi ti porta da un'altra parte. Voi immaginate una cosa, voi date a dieci ingegneri, non esiste il mouse, non esiste internet, voi date a dieci ingegneri il compito di progettare il mouse. Sarebbero venute fuori dieci cose diverse. Il mouse che si usa con i piedi, quello che si usa con la bocca. Perché il mouse ha avuto successo anche, perché era avanti. Questo nel 67, anche se lui non avrebbe mai potuto immaginare il boom della pornografia online, ha inventato uno strumento che si usa con una mano sola. Quindi, capite che il mouse che si usa con due mani non sarebbe arrivato fino ad oggi. A un certo punto si sarebbe estinto e un altro avrebbe inventato il mouse che si usa con una mano sola. Quindi che cosa succede? Un strumento che si ha le mani impegnate, che poi c'è, però noi vogliamo un'altra volta. L'altra pietra miliare, che rappresenta invece la connessione tra utente normale e tecnico, è stata la prima email inviata da una persona anziana. La prima email inviata da una persona anziana è il 1976 e questa persona è la regina Elisabetta. È importante perché è stata la prima volta che una persona anziana si è interfacciata con un tecnico. Il tecnico gli ha detto, fai così cos'ha, mandale. Doveva mandare la mail a tutto il Commonwealth. E la regina gli ha risposto, it doesn't bloody work. Non funziona. E poi ha accusato il tecnico che da quando gli ha messo giù le mail non funzionava più neanche il Commonwealth. Perché? Cos'è successo? Perché è nata una sindrome che tutt'oggi persiste, che io chiamo la sindrome della catastrofe conseguente. Cioè, se viene un tecnico e fa una roba in casa tua, qualunque altro problema dopo che se n'è andato, anche non logicamente correlato, è colpa del tecnico che è venuto. Quindi tutti quanti i tecnici, giusto? Tutti quanti i tecnici che si sono visti accusare due giorni dopo aver installato un modem che non funzionava più la lavatrice, devono riconoscere in quel tecnico lì un padre. Però è ancora difficile vendere le cose. Quindi che cosa succede? Gli informatici sono ancora tristi. Continuano ad espandersi, ma sono tristi. Non è vendibile sta roba. E un giorno, un'altra pietra miliare, un tale che si chiama Kevin McKenzie, che ha il nome da bullo di film americano, in una BBS, che è una sorta di progenitore dei nostri forum, mette una faccina triste. Inventa la faccina. Cioè Kevin McKenzie inventa l'emoticon. E quindi subito i messaggi delle BBS e le mail si riempiono di emoticon. Qui ce ne sono alcune con il loro significato. Sono contento, sorrido gaudente, amicco maliardo, c'è del disappunto, basisco, basisco più discretamente perché ho la bocca più stretta, e poi ti do un bacetto, ti allargisco un bacetto. Poi c'è una piccola parentesi che qualcuno dopo un genio che oggi, come oggi parla dai palchi senza avere cose, ha inventato la faccina al contrario, che dà delle altre significati, tra i quali anche più elaborati, e tra i quali le faccine Adolf Hitler, John Fitzgerald Kennedy prima dell'attentato e dopo l'attentato. Allora che cosa succede? Poi abbiamo la vera pietra miliare, cioè la cosa che rende vendibile l'internet. Un giovanotto, cosa succede? Un giovanotto che si chiama Tims Berner Lee, a un certo punto, al CERN, inventa il World Wide Web, cioè l'organizzazione in pagine di internet, dell'internet come la conosciamo noi. E tra l'altro io ho scritto, è la prima e unica persona al mondo ad aver mai lavorato, usato il web per lavoro, perché in realtà poi, adesso vedremo nella slide successiva, che da... Cosa succede? Lui inventa un modo di rendere fruibile quelle cose. Fruibile vuol dire che puoi far incontrare quelli che sanno vendere le cose con quelli che le sanno comprare, noi. E quindi si aggiunge un nuovo strato che si espande a dismisura, che sono le tette dei gattini, cioè il cazzeggio, sostanzialmente, rappresentato dai gattini e il porno rappresentato da... lo sappiamo. E cosa succede? In realtà sembra una cosa detta così, però che cosa attira veramente? Quello che abbiamo sentito anche negli altri panel più seri, cioè la raccolta dei dati, la raccolta dei big data che ci lasciamo dietro e quindi le offerte commerciali, come viene distribuita la pubblicità online, dipende tutto da questo, dal cazzeggio e dal porno online, il cazzeggio e i social. Quindi noi vediamo la rappresentazione di come funziona oggi internet, c'è cazzeggio, porno e poi c'è un piccolo Tim Sberner lì. Scusate, mi stavo ammazzando. C'è Tim Sberner lì che usa il web per lavoro, lì da solo. Esatto. E vorrei chiudere con questo, cioè nel senso, uno strumento molto competente, molto bello, fatto di macchinari fantastici che qua potete vedere esposti, si trasforma nel più grande veicolo di informazioni, grazie poi semplicemente al fatto di aver reso vendibile su questa sovrastruttura cose che in realtà di cui antropologicamente abbiamo bisogno, giocare e le cose toti. Quindi vorrei dimostrarvi questa cosa con alcuni numeri, perché i numeri nelle presentazioni fanno sempre effetto. Voi sapete che ogni anno il network porn, da quando parlo di tette e porno, c'è più gente che... è vero, l'ho detto prima, dopo dirò delle parole e la gente aumenterà. Allora, ogni anno il network porno, che è un network che riunisce tutti i più grandi siti porno del mondo, pubblica i big data, cioè non big data, dati grossi, ma big data, i dati maiali, cioè i dati sulla fruizione dei loro network. Allora, questi dati sono al 2016, quindi sono stati pubblicati a gennaio di quest'anno. Allora, nel 2016 il network di Pornhub ha visualizzato 92 miliardi di video per 10 minuti di visualizzazione media ad ognuna di queste 92 miliardi di visualizzazione. E poi mi chiedo così tanto, c'è 10 minuti di video porno? Cioè vuol dire che c'aveva una trama forte. Se noi moltiplichiamo questi 10 minuti per i 92 miliardi di video, sono 920 miliardi di minuti di tempo passato dall'umanità a vedere i porno. In un anno sappiamo che ci sono 525.600 minuti. Quindi se noi facciamo le debite proporzioni, l'umanità nel 2016 complessivamente ha speso 1,7 milioni di anni di tempo, solo nel 2016, a fruire contenuti porno. Questo vuol dire che noi come esseri umani, e qui mi aggancio una cosa antropologica, l'ha detto Piero Angela in tv, noi come esseri umani ci siamo da quanto? 200 mila anni, no? Circa, come Homo sapiens. Come Homo sapiens ci siamo da circa 200 mila anni. Vuol dire che solo nel 2016 abbiamo visto più porno di quanto ci siamo evoluti, in generale come specie umana. Quindi questo dimostra che l'informatica ha una tradizione che deve diventare un'eredità. E adesso sentiamo da loro come ci si adopera, perché c'è un modo, ovviamente non è che sto condannando l'uso del porno online, sia mai. L'importante è cancellare la propria cronologia di... tutti ricordatevi sempre di cancellare la cronologia. Ma accanto a questo utilizzo, magari possiamo cercare nel tempo libero tra dieci minuti e gli altri, di organizzare degli spazi come fanno loro, di organizzare degli eventi come fanno loro, per cercare poi di... e poi metterli online, per cercare di rubare un pochino di banda. Non tanta, un pochino a questo. Vi ringrazio, ho finito il mio cappello, adesso facciamo parlare loro. Allora, Andrea Poltronieri del Mupin. La chiave se l'ha rubata il tecnico. L'ha lasciata lì? Non vi ho presentato i miei amici. Andrea Poltronieri del Mupin, vabbè lo conoscete. Applauso. Antonio Giudice del Musif. Andrea Milazzo, giusto? Del MIAI. E tra l'altro loro rappresentano il fatto... Scusate, applauso perché ti ho fregato l'applauso. Loro hanno fatto anche una cosa perché il loro museo, diciamo, dell'informatica funzionante, poi lo diranno, è in due città, in due regioni diverse. Quindi è un museo diffuso, quindi adesso... dopo lo vedrai. Transregionale, come diceva. Adesso ti do questo. Grazie. Grazie. Salve a tutti. Io sono Andrea Poltronieri del Museo Piemontese dell'Inferno. Informatica dagli organizzatori di questo evento. Grazie per essere qui. Nella mia presentazione vi posso mostrare la nostra idea di come dovrebbe essere un museo dell'informatica. Il titolo più vicino, più vicino, più vicino. Il titolo dice esporre una scienza perché la prima difficoltà che troviamo è il problema di esporre l'informatica, che è un concetto astratto. Esporre i computer è facile, esporre un concetto è molto più difficile. Come diceva, mi sembra Dijkstra, i computer hanno a che fare con l'informatica un po' come i telescopi hanno a che fare con l'astronomia. Un museo che espone solo computer non sarebbe un museo che parla di informatica. Il nostro obiettivo invece è qualcosa di diverso, non dico più grande o migliore, diverso. Un approccio che va oltre a esporre dei pezzi. Noi vogliamo, il nostro obiettivo è di fare un museo dell'informatica perché l'informatica oggi è una scienza con cui abbiamo a che fare tutti i giorni. Tutti i giorni noi prendiamo in mano oggetti che sono strumenti informatici, abbiamo a che fare anche senza vederlo. Qui c'è la porta di un banco, Matt, che è uno strumento informatico e lo usiamo tutti i giorni. Alcuni di noi, oltre ad usarli tutti i giorni, desiderano conoscere meglio le potenzialità dello strumento che hanno in mano, oppure semplicemente desiderano conoscere nella storia. Di nuovo prendo in mano questo telefono che ho. Questo telefono monta un processore che è figlio di un processore sviluppato nella metà degli anni Ottanta da una consociata di Olivetti. È un piccolo dettaglio che nessuno conosce. Può essere interessante divulgarlo. Con la nostra idea di museo noi vorremmo spingere verso il pubblico la conoscenza di questi concetti, della storia dell'informatica e una conoscenza migliore degli strumenti che abbiamo sempre in mano. Cerco di essere breve per lasciare spazio anche a tutti, eventualmente salto qualche slide. Ora, scendiamo un po' nel dettaglio. Come noi vorremmo esporre l'informatica? Noi vorremmo esporla innanzitutto con un percorso cronologico a tappe. Vi sto mostrando una sorta di mappa mentale di come noi vorremmo. Non è spettamente legata a un'esposizione fisica. Noi nel nostro futuro museo, quando avremo uno spazio espositivo permanente nostro, riteniamo di dover esporre la storia dell'informatica appunto con un percorso a tappe. Quindi scegliere dei momenti topici. In questa slide sono scelti dei momenti in maniera assolutamente arbitraria. Qualunque esperto di informatica potrà dire no, quel particolare oggetto non è così importante ma avresti dovuto mettere qualcos'altro. È arbitraria. È un esempio e l'abbiamo fatta noi perché abbiamo deciso così. Tu potresti dirmi Turing non è il più importante, c'è qualcun altro più importante e si può discutere per un'ora. Questo è giusto un esempio di come vorremmo mostrare la nostra esibizione. Dopodiché vorremmo scegliere dei momenti particolari, degli oggetti particolari, delle cose particolarmente significative e approfondirle. Ad esempio, di nuovo scelgo dei momenti della storia dell'informatica in questa presentazione che possono dare un'idea di come vorremmo esporle. Non sono necessariamente i più importanti, i più spettacolari, i più belli. Sono un esempio di come vorremmo esporle. Qui abbiamo un'idea di un approfondimento che vorremmo mettere nel nostro museo che è l'epoca della seconda guerra mondiale. Il titolo è la guerra delle informazioni. Durante la seconda guerra mondiale, oltre a cannoni, cadermati e sommergibili, sono stati usati anche strumenti informatici per farci la guerra. C'è tutto il grande tema della crittografia che è stato approfondito, è stato superficialmente trattato nel film di qualche anno fa che mostrava la vita di Alan Turing. Oppure l'altra persona, dall'altro lato, è Eddie Lamar, la famosa attrice, cantante, intertenitrice, che è famosa per due cose. Per aver fatto la prima scena di nudo integrale al cinema e per aver inventato un sistema per proteggere le comunicazioni con i siluri, che è, diciamo in senso lato, utilizzato ancora oggi nelle telecomunicazioni. Ma sto troppo vicino, troppo lontano. Un altro esempio di come potrebbe essere organizzato il museo è un approfondimento sulla storia dei videogame. I videogame nascono come un hobby, come un passatempo creato per se stessi da scienziati, da tecnici. Il primo videogame è stato fatto dallo sviluppatore per usare lo stesso. Qui ne ho scelti tre a caso. Arriviamo sull'ultimo Zelda, che è un gioco che ha un budget di sviluppo più grande di quello che può avere una grande produzione cinematografica. Oggi l'industria dei videogame muove più soldi di quelli che muove l'industria del cinema. Come si è passati da un passatempo per hobbystri per se stessi alla più grande industria del mondo, o una tra i più grandi? È interessante scoprire come. Noi vorremmo mostrarlo. Un altro approfondimento che può essere, che a noi è di particolare interesse. Il primo personal computer, cioè il primo computer pensato e costruito per essere usato da una singola persona, è nato alla Olivetti. E ce n'è uno esposto là e un altro di là. in questo momento. Questo è un approfondimento che merita di essere fatto. Non tutti lo sanno. Oggi se ne parla un po', però è un tema abbastanza misconosciuto. Si conoscono abbastanza bene i personal computer degli anni 70, ma non certo Olivetti 101. Un altro approfondimento più antropologico, che non tecnico. Tra gli anni 70 e i primi anni 80 è nata l'informatica personale, perché prima l'informatica era qualcosa di professionale, usato dalle aziende. Qui abbiamo un mainframe, un grande computer usato dalle aziende. Nella stessa, in quell'epoca, indicativamente, nella seconda età degli anni 70, abbiamo avuto una diffusione dell'informatica nelle case di utenti comuni. E così via. Andiamo avanti su altri approfondimenti. Naturalmente il nostro progetto è fare un museo vivo e interattivo. Non solo esporre degli oggetti, esporre dei concetti e dei temi, ma anche offrire un momento di approfondimento. Qui abbiamo un esempio, abbiamo in corso dei laboratori di Coder Dojo per bambini, abbiamo altri laboratori didattici. Nel nostro ideale museo dell'informatica vorremmo ospitare eventi interattivi per il pubblico. Non sto a dirvi chi siamo, perché spero che se siete qui voi già lo sapete. Comunque il Muping è un'associazione culturale non a scopo di lucro. Non abbiamo una sede visitabile, naturalmente, ma abbiamo l'idea di come farla. Ci stiamo lavorando. Grazie per avermi ascoltato. Cedo la parola ai colleghi. Salve, io sono Antonio Giudice e insieme ad Andrea Milazzo siamo parte di una realtà particolare. Rappresentiamo qui due musei che siamo autodefiniti museo trasregionale, perché una delle nostre due sedi è a Cosenza, l'altra è a Palazzo La Creide in provincia di Siracusa. Allora, faccio veloce per non rubare tempo a chi viene dopo di noi. Allora, ci definiamo museo trasregionale proprio perché non so se siamo i primi in questo senso, ma penso sia più interessante l'approccio che il fatto di essere i primi o meno in questo senso. Ecco, la nostra visione è quella proprio di, come dire, intanto ci chiamiamo uno museo dell'informatica funzionante e l'altro museo interattivo di archeologia informatica proprio perché una delle componenti fondamentali è il fatto che i computer sono funzionanti e sono utilizzabili in buona parte, proprio per, come dire, per l'approccio hands-on della cultura hacker, se vogliamo. L'approccio antropologico perché, come dire, la tecnologia non è mai solo tecnologia e basta, ma è fatta anche da persone, quindi da esseri che ci mettono anche sudore, sangue a volte. Progettuale intermediccia nel senso che comunque ci piace mischiarci molto con settori apparentemente distanti, appunto, e multidisciplinare perché per forza di cose ci troviamo a affrontare tanti tipi di settori per poter, come dire, riuscire a ottenere i risultati che vogliamo. Allora, le nostre storie, molto brevemente, fondamentalmente i due musei nascono in contesti, come potete immaginare, abbastanza impegnativi perché, come dire, se già è difficile in Piemonte, figuratevi in sud Italia, riuscire a farsi riconoscere come realtà presente sul territorio. Abbiamo cercato in questi anni di ottenere, come vedete, collaborazioni con università, insomma, ci stiamo lavorando. Fondamentalmente poi dal 2008 in poi abbiamo incominciato a lavorare a stretto giro tra i due musei perché fondamentalmente condividiamo praticamente tutto dell'approccio all'attività museale che, tra parentesi, si è stata esclusivamente su base volontaria. Il Musif in particolare, poi, come dire, ha un po' di attività alle spalle. Abbiamo iniziato abbastanza presto con quest'idea del museo. Le prime raccolte di Ardo sono state cominciate addirittura all'inizio degli anni 90. Andiamo avanti, non andiamo nei dettagli della storia. Per darvi un'idea di quello che è il patrimonio museale dei due musei. A Cosenza abbiamo, ecco, per dare i numeri, come diceva prima di me, allora, per dare un po' dei numeri, queste sono più o meno le cifre delle cose che abbiamo raccolto in questi anni. Più o meno perché? Perché ovviamente non è facile dare delle stime precise di tutto quello che siamo riusciti a accumulare e il lavoro di restauro e recupero è sempre, come dire, un work in progress, ovviamente. Ovviamente, come vedete, aspetta, torno un attimo. Come vedete, c'è, come giustamente diceva Andrea, quello che conta non è solo il pezzo, come dire, il computer. Fondamentali sono i documenti, i libri, i rivisti, riviste e media, quindi i vari tape, dischi, tutto quello che fa parte dell'informatica e quindi non solo del computer. Allora, per farvi, vabbè, qui c'è un po' un elenco di cose che abbiamo, di pezzi particolari, tra cui vi faccio notare, abbiamo ricostruito noi un Apple 1, perché ci siamo detti a un certo punto sarebbe bello averlo, peccato che costa veramente tanto e quindi abbiamo detto perché non riprodurne uno? No, no, ma direi, tranquillo, chiudiamo velocemente. Va bene, vabbè, qui un po' di cose, un esempio, questo è un esempio di recupero che abbiamo fatto all'Università di Catania, un vecchio unisis, sì, comunque, per farvi capire, queste sono un po' le attività che facciamo, facciamo mostre temporanee, eventi artistici, restauri e ricostruzioni e facciamo recupero di dati dai media obsoleti, cioè facciamo questo servizio, abbiamo incominciato da qualche anno, abbiamo già recuperato anche, per esempio, un esempio di recupero interessante è stato quello fatto, ecco qua, per esempio, abbiamo recuperato un sistema operativo che era praticamente disperso, siamo riusciti hackerando un lettore, scrivendo noi il software per andare alla legge, siamo riusciti a recuperare un sistema operativo polacco, considerato disperso, ecco, queste sono più o meno le problemi, per farvi solo capire velocemente che cosa affrontiamo quando andiamo a fare un restauro, questo è come abbiamo trovato questo Saga Fox in un pollaio, si capisce di che cosa è ricoperto, dopo il nostro intervento sia riuscito a farlo funzionare, giusto per farvi solo un'idea di che cos'è il nostro restauro. Cosa dire, grazie dell'attenzione. Grazie a tutti, scusate se mi sono dilungato sulla mia presentazione, rubando un po' di spazio agli amici, mi sono fatto trascinare, grazie a tutti. Grazie a tutti.